Casa Base è un progetto, un lavoro di collaborazione, di scambio tra queste due realtà che operano da molti anni, come vi dicevo prima, sul territorio regionale, che hanno approcci sicuramente diversi al tema della tutela infanzia ma che abbiamo scoperto essere molto complementari tra loro. Casa Base è non soltanto il nome della comunità residenziale ma è il nome di un progetto più ampio che ha due anime e due percorsi. Uno che riguarda direttamente l'accoglienza e la tutela di minori vittime di abuso e maltrattamento e l'altro è un lavoro invece che include tutto un percorso territoriale con lo scopo di favorire, incentivare processi di solidarietà e di genitorialità responsabile. Proprio in questi giorni sta partendo sul territorio dove la prima delle due comunità Casa Base è nata, non in ordine di tempo ma in ordine di nome in realtà, che è quella di Avigliana. Un percorso che parlerà di genitorialità a tutti i genitori del territorio dove è insediata la comunità e lo scopo è quello di andare oltre al tema della protezione e cercare di iniziare a parlare anche quello della responsabilità genitoriale. Il tema di questo seminario è, come avete visto, proteggere i bambini e curare i genitori. Difficile ma possibile. Abbiamo cercato di andare oltre al compito di protezione dei bambini per introdurre anche il concetto della cura, della cura della famiglia d'origine, partendo dal presupposto che quando parliamo di bambini e quando parliamo di famiglia in realtà parliamo di tutto. E parliamo di cura di famiglie che sicuramente sono state considerate e ritenute non idonee per la crescita dei loro figli all'interno della struttura familiare e per cui introduciamo un altro elemento di complessità. Oltre all'elemento di complessità legato al trauma subito dai minori, dall'allontanamento di questi minori della loro famiglia, anche alla complessità legata a un sistema familiare non funzionante. Pensare alla famiglia d'origine e quindi pensare a tutto il nucleo familiare è il punto chiave del progetto di casa base. Poi entreranno più nel merito gli interventi successivi. Ma questo è il succo, cioè vorremmo superare il concetto di valutare quelle che sono le competenze genitoriali, perché in realtà non si tratta tanto di capire se queste competenze sono compromesse, perché lo sono sicuramente, ma si tratta di capire quanto queste competenze sono recuperabili anche. Quindi il concetto è uscire un po' da un'ottica di valutazione preventiva e cercare di capire anche dopo che succede a questi bambini. Il momento che stiamo vivendo è un momento sicuramente complesso dal punto di vista della crisi economica, a cui si è giunta sicuramente una crisi anche di tipo politico, e la stiamo vedendo in questi giorni. Perché chiacchieravo prima con la dottoressa Vitale e mi dice beh sicuramente è un momento scomodo per fare un intervento in un consesso come quello di questa mattina, e in effetti le do assolutamente ragione. Non è facile, però sicuramente è il momento in cui ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Ed è un momento che abbiamo imputato a fattori molto diversi, questo momento di crisi. Sicuramente un fattore di crisi economica, ma anche un fattore di crisi sociale sul tema della protezione. E oggi abbiamo deciso di raccontare l'esperienza, a partire dall'esperienza di Casa Base, anche perché vorremmo permetterci il lusso, e forse oggi è diventato un lusso, di iniziare a valutare quanto fatto a livello sociale, di intervento sociale, perché forse oggi sempre di più il tema della valutazione pre, quella diciamo preventiva, ma soprattutto quella della valutazione dopo, man mano che sta succedendo qualcosa e quando questo qualcosa è successo, quindi durante il percorso all'interno di una comunità e dopo il percorso in comunità, non deve più essere un lusso. Deve essere qualcosa che sappiamo raccontarci. Si è parlato anche di una crisi del sistema dei servizi e si sono state criticate molto anche il sistema delle protezioni nelle strutture residenziali. Uno degli interrogativi che vi lancio è forse non abbiamo saputo raccontare il valore del percorso fatto nelle strutture residenziali o forse era realmente un percorso che non era idoneo rispetto a quel bambino. Si trattava di una medicina che non funzionava o una medicina che era mal somministrata o non era chiaro il percorso di prognosi che si voleva raggiungere. Quindi questi sono solo alcuni elementi che ci spingono oggi a confrontarci a questo tavolo. Riteniamo che sia un'occasione di rilancio del tema della tutela minori e vorremmo che fosse un'occasione di rilancio del tema della tutela minori. All'interno della cartellina trovate una scheda nella quale se avrete voglia potrete lasciarci le vostre impressioni e commenti potete ricevere naturalmente anche informazioni su quanto facciamo e oltre a un insieme di proposte formative da parte della cooperativa Paradigma del centro tutela minori e di riflessi che è l'agenzia formativa della cooperativa Paradigma trovate anche la possibilità di richiedere la monografia sul tema appunto del futuro del servizio della tutela dell'infanzia a ripresa di un dibattito che nasce da un seminario di ricerca fatto da Paidei a Fondazione Zancan nel 2011. Lascerei la parola adesso a Gabriele Tosso presidente della cooperativa Paradigma per completare questo quadro introduttivo Grazie Più che altro per salutare e ringraziare tutti di essere venuti oggi Sì, non c'è molto da aggiungere a quello che ha detto Fabrizio Direi che l'idea di oggi era anche un po' quella di trovare un'occasione per mettere insieme chi come noi in questi anni si è impegnato in questo lavoro anche tutte le altre realtà che lavorano su questi temi e quindi l'obiettivo di oggi era quello di presentare alcune idee ma poi anche di provare a discutere Ringraziamo tutte le persone che hanno accettato di partecipare alla tavola rotonda per portare il loro contributo e direi che siccome il tempo è breve direi che possiamo iniziare poi Fabrizio ci delinea meglio il programma che ha avuto una piccola variazione organizzativa Io per riportare un po' al tema dei bambini della cura dei genitori e delle comunità volevo solo aprire l'incontro raccontando un piccolo fatto un piccolo evento che mi ha colpito in questi giorni nel senso che domenica ero a Chieri sulla nostra prima comunità dove festeggiavamo i 18 anni con tutto il gruppo dei volontari delle istituzioni che hanno collaborato con noi per in questi anni e uno dei bambini della comunità quando mi ha visto arrivare mi ha in qualche modo sequestrato dicendo mi senti devo parlarti è un bambino che fa la prima elementare per intenderci e quando è arrivato in comunità non si riusciva neanche tanto a capire come parlasse o cosa riusciva a comunicare mi ha sequestrato per una mezz'oretta e fra i vari discorsi che mi ha fatto a un certo punto mi ha detto ma come mai il mio papà non viene a trovarmi tu lo sai quando potrò finalmente rivederlo definendo che il tema del papà che fa fatica a tornare, a venire a trovarlo e quindi siamo davvero in difficoltà a cercare di aiutarlo per riavvicinarsi al suo figlio abbiamo un po' condiviso questa cosa e poi a un certo punto mi dice ma senti la macchina della comunità non è tanto bella ce la cambi per favore nel senso che effettivamente comincia ad avere un po' di difficoltà a funzionare e io dico vabbè vediamo adesso insomma e poi a un certo punto tira fuori una cosa ma senti perché invece della macchina non ci regali un camper? dico scusa? dico adesso qui siamo di fronte questo estate sono andati in vacanza forse al campeggio dove sono stati avrà visto qualche camper che gli piaceva sì perché senti così con questo camper io e insieme agli educatori ci muoviamo e andiamo verso casa mia in modo tale che loro stanno con me e nello stesso tempo anche il papà può cominciare a avvicinarsi insomma mi ha colpito questa metafora del camper insomma che mi sembra che possa anche essere rappresentativa della comunità spesso insomma i bambini hanno bisogno di essere aiutati a capire che cosa succede rispetto ai loro genitori e l'idea che la comunità sia un po' un camper che insomma si muove che cerca di andare incontro e se è possibile di trovare una strada insieme agli educatori con cui i bambini stanno mi è piaciuta e quindi ve la volevo raccontare dopodiché insomma Fabrizio presenta il programma iniziamo subito con un cambio di programma in quanto l'assessore Tisi ci raggiungerà più tardi verso le 11 per cui questa prima parte quella che abbiamo chiamato il quadro politico istituzionale sarà presentata in questa prima battuta dalla dottoressa Raffaella Vitale che è la direttrice regionale delle politiche sociali e politiche per la famiglia della regione Piemonte Grazie a Fabrizio Serra per l'invito grazie a Gabriele Tosso per l'invito a presenziare a questo convegno che ci dà l'occasione di rappresentare alcune scelte di tipo programmatorio nel quale poi la vita dei servizi per minori si muovono voi come tutti sapete siamo in un momento difficile per il sistema di welfare di questo paese le risorse sono gradualmente ridotte sia nei trasferimenti statali e le regioni faticano a mantenere gli impegni assunti nei confronti degli enti locali ma questo non toglie che di fronte a questo quadro non si facciano delle scelte e la regione Piemonte ha fatto delle scelte di concentrazione della sua attenzione programmatoria su tre grandi aree quella di cui parliamo oggi che è l'area dei servizi per i minori i servizi per la disabilità e quelli per gli anziani in un momento in cui le risorse sono di meno occorre che l'azione del sistema pubblico si concentri la regione Piemonte che cosa ha fatto? poi entriamo nel merito che qui vedete già dal titolo che susciterà qualche curiosità delle persone presenti in sala perché di questo provvedimento si parla da molto tempo ma abbiamo lavorato su due fronti quello che è il fronte chiamiamolo della prevenzione e che è il fronte con cui i servizi per minorili si occupano che è il sostegno alle situazioni in difficoltà e al raccordo con le autorità giudiziarie minorili stipulando una seconda convenzione tra regione Piemonte e Tribunale per i minorenni e Procura per la messa a disposizione di operatori specializzati assistenti sociali per consentire come dire un trattamento integrato dei fascicoli dei minori con problematiche di tipo civile e agevolare quindi i percorsi di tutela che la magistratura minorile e i servizi sociali cioè voi realizzate sul territorio evitando che come dire alcune situazioni restino a lungo tempo senza provvedimento o con provvedimenti di tipo rallentato vediamo se sono capace qua allora prevenzione dell'allontanamento qui vedete quelle che sono le azioni che noi abbiamo svolto nel 2010 assegnazioni vincolate di risorse ai soggetti per interventi di prevenzione nel 2012 un finanziamento di nuovi modelli di intervento della prevenzione questo è un programma che non abbiamo ancora realizzato perché stiamo finendo di impegnare tutte le risorse per gli enti locali ma ci restano nelle tasche circa 400.000 euro che destineremo a progetti di prevenzione per un nuovo modello potenziamento degli interventi internativi all'inserimento residenziale e quindi quello di cui vi ho parlato prima il rinnovo di una convenzione col TM per questa attività di collegamento con i servizi nel settore affidamenti e adozioni e la nuova convenzione fatta l'anno scorso dal presidente Cota sostegno alle adozioni dei minori oltre 12 anni e con handicap accertato questa era un'azione già precedente che esisteva ma che abbiamo continuato a sostenere economicamente e finanziariamente una valutazione dei percorsi e degli esiti quindi una nuova rilevazione sui dati sui minori inseriti in comunità dai soggetti gestori delle funzioni e l'adesione al progetto ministeriale RISC questo è una delle conseguenze di molto del vostro lavoro e cioè che le azioni e le intraprese e gli interventi hanno dato luogo ad una riduzione delle richieste di inserimento nelle strutture residenziali contestualmente però nascono ed emergono nuovi bisogni e questo ci ha chiesto una nuova riflessione sulle strutture e sulla rete di accoglienza e sulle modalità di inserimento e sulla necessità di introdurre risposte specialistiche a cui la comunità base in parte anch'essa risponde qual è la situazione qui qui vedete un grafico che illustra l'andamento del totale dei minori inseriti in affido e in presidio e vedete in maniera grafica molto bene come negli ultimi tre anni quindi poco prima della presa delle nostre decisioni assistiamo a una riduzione degli inserimenti una lieve riduzione degli inserimenti in presidio ma anche del numero degli affidamenti questo come dire è un lavoro che è monitorato dai miei uffici dalla dottoressa Caprioglio e dalla dottoressa Anglesio che sono qua presenti in sala a cui potrete chiedere magari maggiori informazioni dei minori inseriti in strutture residenziali ci sono 21 minori in comunità di pronta accoglienza 88 ospiti di comunità familiare 568 di comunità educative 214 di servizio accoglienza bambini e genitori e 164 ospiti di altre tipologie abbiamo poi anche un certo gradimento per le nostre comunità visto che abbiamo 78 ragazzini che vengono da fuori Piemonte no che sono inseriti fuori Piemonte ecco il contrario scusate motivi dell'inserimento in struttura ecco questa è una slide che vi deve essere di aiuto perché su questo c'è molto dibattito tra voi credo è la prima volta che io partecipo ad un convegno che tratta di problematiche minorili e siccome resterò qua tutta la mattina mi piacerebbe sentire un po' qualche riscontro beh come vedete dalla fetta gialla molta parte dei motivi di inserimento in struttura è determinato da una valutazione fatta dai servizi sociali dei servizi di psicologia delle aziende sanitarie circa l'anediguatezza all'incapacità genitoriale poi avete via via fettine decrescenti i minori stranieri non accompagnati poi abbiamo la fettina del maltrattamento che come vedete sale al 9% della casistica quindi questa è l'area di aggressione poi delle attività specialistiche delle comunità come quella paradigma qui forse sarebbe interessante analizzare questo fenomeno come si è sviluppato negli anni come la capacità di intercettare il bisogno da parte dei vostri servizi abbia fatto emergere situazioni nuove e come questo poi porti a dell'inserimento in struttura qui abbiamo una valutazione sulle 250 strutture presenti in Piemonte e vedete come sono suddivise la colonna rossa evidenza le comunità socioeducative e le altre realtà comprese quelle di tipo psicosociale e psichiatrico come sono le CTM e le CRP questa è la situazione sulla quale la regione Piemonte si è trovata a dover fare operare delle scelte anche alla luce della necessità di riaggiornare il provvedimento che regolava il funzionamento delle strutture qui voi vedete una cosa che ci ha fatto balzare agli occhi in maniera significativa perché le scelte si fanno anche valutando quante risorse vengono impiegate vedete che per l'inserimento dei minori incomplessivamente c'è stata una lieve riduzione da 40 milioni del 2009 ai 38 del 2010 ma quello che balza agli occhi è la spesa sanitaria crescente 6 milioni nel 2009 e nel 2018 tenete conto che salta all'occhio perché il numero è molto più basso è molto più piccolo parliamo di numeri piccoli adesso li vediamo quali sono degli altri fenomeni che sono stati rilevati dai nostri uffici una diminuzione delle richieste di inserimento per i minori in fascia 05 quindi una una situazione che ha portato anche a qualche chiusura di qualche struttura che era dedicata specificatamente a questa fascia d'età e poi quello che vedete correlato all'aumento della spesa la crescita delle richieste di inserimento in CTM CRP con minori che vedete abbracciano tutto questo spettro disturbi della condotta problematiche di tipo psichiatrico anche associate ad uso di sostanza minori vittime di abuso e maltrattamento che è un po' il tema della nostra giornata questo ha fatto sì che le giornate di inserimento arrivassero al 264 nelle comunità riabilitative e psicosociali con una crescita del 45% altri fenomeni rilevati questi non ci ci soffermiamo abbastanza perché anche questo per gli operatori è significativo che è quello che poi discuteremo nella tavola rotonda più tardi l'aumento delle richieste di inserimento in comunità madre e bambino con un aumento del 10% e quindi con questo tema della possibilità di un recupero di capacità genitoriale attraverso un recupero della relazione della madre e bambino in comunità ma poi quello che colpisce molto a me che sono comunque un vecchio operatore dei servizi socioassistenziali e questo ve lo dico in questa platea è che ancora oggi nel 2012 abbiamo un 32% di inserimenti che supera gli due anni e questo è inaccettabile civilmente ed educativamente quali sono i nodi problematici in sintesi inadeguatezza da una parte della rete perché molti di questi inserimenti sono fatti in strutture improprie cioè in strutture che non hanno delle vocazioni specifiche e abbiamo una richiesta di strutture specialistiche come l'esperienza di Paragdim ci dimostra abbiamo rivisto allora la normativa in questo momento non è ancora approvata dalla giunta perché ancora stiamo realizzando una discussione con gli enti locali all'interno di ANCI tre gli obiettivi trovare risposte a nuovi bisogni assicurare una sostenibilità e flessibilità del sistema di accoglienza e garantire la proprietà degli inserimenti i bisogni emergenti minori stranieri non accompagnati e i minori con i gravi disturbi comportamentali che noi abbiamo visti prima che oggi sono questa emergenza di crescita rispetto alle possibilità di accoglienza in più abbiamo aggiunto una particolarità che è quella della maggior definizione delle cosiddette strutture per l'autonomia laddove noi abbiamo visto che abbiamo ancora lunghi inserimenti lunga durata di inserimenti questa è fatta su fasce d'età molto come dire fasce d'età verso il compimento del diciottesimo anno di età vabbè questo ve lo risparmio perché poi entriamo troppo nel merito della discussione del nostro modello della DGR 41 che a voi non avete tra le mani nel nostro provvedimento abbiamo dedicato specificatamente un capitolo destinato alle comunità per il maltrattamento che abbiamo tolto dalla grande casa madre delle comunità psichiatriche e le abbiamo come dire dato una collocazione specifica all'interno delle comunità educative che proprio per questa fattispecie di attività vengono particolarmente finalizzate per i modelli operativi organizzativi e gestionali ma che partono per essere delle comunità prevalentemente educative abbiamo raccolto molti pareri attorno a questo nostro provvedimento che vorrebbe come dire far sì che gli operatori del settore quindi guardiamo qua la cooperativa Paradigme se c'è anche qualche altra cooperativa che lavora nel settore minorile deve guardare a questo nostro nuovo modello la regione Piemonte rappresenta ancora sempre di più un punto di riferimento anche per altre regioni italiane perché noi riusciamo attraverso questo grande dibattito che c'è nei nostri servizi nelle nostre strutture tra pubblico e privato ad avere non solo una meticolosa analisi dei bisogni dei ragazzi ma anche la capacità di progettare percorsi di inserimento percorsi di reinserimento di socializzazione educativi molto mirati cosa che altre regioni italiane non hanno e che come dire su cui varrebbe la pena come dire di valorizzarlo come una ricchezza della nostra regione discuteremo più tardi nella tavola rotonda il tema specifico delle comunità per il maltrattamento minorile e per l'abuso perché questo creda che sia un tema di particolarmente rilievo visto i dati che voi avete visto quindi attendo anche come dire interventi e sollecitazioni poi anche all'interno del dibattito che seguirà grazie grazie la dottoressa Vitale di averci in realtà svelato alcune anticipazioni di questa DGR che da anni è attesa dagli operatori dei servizi ci sono alcuni elementi che sicuramente hanno colto hanno suscitato la nostra attenzione una è un po' un riconoscimento dice minore inserimento nelle strutture motivato da una maggiore capacità di intervento e di risposta da parte degli operatori ne siamo contenti perché pensavamo che fosse anche dovuto a questione di tipo economico che avremmo anche capito però evidentemente siamo riteniamo che il lavoro fino ad oggi fatto sia un lavoro utile ed è chiaro anche d'altra slide sull'andamento della spesa questa necessità di integrazione delle componenti sociali e sanitarie soprattutto quando parliamo di situazioni complesse ed in particolar modo in questo caso noi parliamo di abuso e maltrattamento e l'idea di pensare a strutture specialistiche che sappiano rispondere ai nuovi bisogni e intervenire in modo appropriato sicuramente è il punto chiave da cui riteniamo sia utile partire vorrei passare immediatamente alla parte successiva di questa mattinata che riguarda il tema degli operatori il tema degli operatori verrà trattato da Norma Perotto e Roberto Maurizio che sono due ricercatori che hanno esperienza pluriennale nel mondo dell'infanzia della tutela per l'infanzia della formazione si sono occupati a vario titolo della formazione degli operatori in questi ambiti e chiederei di raggiungerci sul palco il tema che gli chiediamo di affrontare è questo perché gli operatori da soli non possono farcela Norma Perotto buongiorno abbiamo deciso di mettere il punto interrogativo alla fine della frase cioè perché gli operatori non possono farcela da soli perché abbiamo lasciato la formula dubitativa è perché crediamo che le domande siano sempre più interessanti delle risposte le risposte le possiamo costruire insieme le domande però ci aiutano a riflettere il titolo che poi ho deciso di dare in realtà è nessuno si salva da solo è un titolo di un libro di Margaret Mazzantini che racconta della storia della crisi di una famiglia di una coppia quindi non è un testo sacro scientifico ma sono convinta che spesso la poesia l'arte la letteratura ci aiuti anche a formulare qualcuna di quelle domande di cui dicevo prima forse più anche di tanti grafici o dati quantitativi che pure nel nostro lavoro sono importanti quindi ho voluto prendere spunto da un lavoro che è un lavoro narrativo perché mi sembrava molto evocativo quindi il nessuno si salva da solo credo sia un po' una parola d'ordine non è solo come dire un obbligo forse anche morale ma credo sia diventata una necessità vista anche la situazione di crisi in cui tutti noi ci troviamo a lavorare oggi allora per rimanere nell'ambito dell'arte ho deciso di citare questo brano di un sociologo che si chiama Sennet che ha pubblicato un libro molto interessante che vi consiglio di leggere che si chiama Insieme edito molto recentemente quest'anno da Feltrinelli Sennet è un sociologo però utilizza per leggere i problemi della nostra società contemporanea occidentale anche delle chiavi di lettura un po' diverse un po' alternative e Sennet racconta facendo riferimento alla propria esperienza perché oltre che sociologo da giovane era stato anche musicista di come la scoperta di dover lavorare con altri sia a volte anche un po' dolorosa e sia anche un po' una ferita diciamo così al nostro narcisismo e credo che questo tocchi un po' tutti soprattutto noi che lavoriamo nel mondo tra virgolette del sociale nel mondo educativo in cui credo molto legittimamente siamo spesso mossi anche da fantasie salvifiche cioè credo che se ci chiediamo perché facciamo questo mestiere sia per far star meglio le persone magari anche per riportare una situazione di giustizia sociale e quello che è il mondo che abitiamo oggi allora nessuno si salva da solo viene ripreso da Sennet in una chiave anche più costruttiva quando racconta come per i musicisti sia una scoperta a volte un po' dolorosa capire che magari quando provo i miei esercizi musicali sono bravissimo e ritengo magari di essere anche il migliore e quando poi invece passo dall'esercizio alla prova insieme ad altri musicisti quindi all'interno di un'orchestra scopro che invece devo risintonizzarmi quindi cambiare un po' quella che è anche la mia capacità di suonare in base alla mia capacità di ascoltare e di sentire gli altri in questo caso ci riferiamo ovviamente agli altri operatori però anche alla famiglia forse anche ad altri cittadini agli amministratori anche a chi non lavora necessariamente nell'ambito del sociale oggi vedo con molto piacere insieme a molti operatori che lavorano nei servizi da anni ad esempio anche rappresentanti dei vigili credo che questa sia un po' una novità però mi sembra molto interessante la possibilità di lavorare insieme quindi di dialogare anche con professioni diverse da quelle strettamente sociali però vuol dire anche rinunciare a un pezzetto nostro perché il sociale non è solo nostro nostro di noi operatori il sociale e del sociale della polis quindi diventa anche necessario forse anche per sopravvivere perché no imparare a dialogare a lavorare anche con chi del sociale strettamente sociale non è quindi Sennet dice esercitarsi a suonare è un'esperienza solitaria fare le prove invece è un atto collettivo allora direi che lavorare con i bambini in difficoltà e con le loro famiglie è un atto collettivo e nel passaggio dall'una all'altra dimensione si gioca il destino di noi tutti quindi il destino credo di noi come operatori ma anche del welfare e quindi anche dei bambini che sono in difficoltà e che seguiamo allora ho riassunto brevemente alcuni buoni motivi per cui è necessario lavorare con e non solo per insegno all'università ci tengo moltissimo a che gli educatori non mi dicano che fanno un progetto su qualcuno su Giovanni o su Paolo no il progetto si fa con le persone insieme alle persone che sono i destinatari del nostro intervento ma credo sia necessario uscire un po' dalla logica diciamo riduzionista forse assistenziale forse sanitaria del dire io operatore lavoro al meglio sull'altro come fosse un oggetto passivo destinatario del nostro intervento non è così l'altro è la persona è la sua famiglia la sua rete familiare sono le persone che sono interessate alla sua vita al suo destino allora credo sia importante lavorare insieme agli altri per gli altri ma soprattutto con gli altri intesi come dicevamo prima non solo altri operatori professionisti nostri pari professionisti ma anche con altri non necessariamente professionisti innanzitutto perché sono cambiati i problemi la dottoressa Vitale prima un po' l'ha anticipato dicendo i bisogni cambiano cambiano i bisogni dei bambini i bisogni delle famiglie è impossibile pensare che un solo servizio possa rispondere ai bisogni delle famiglie o dei bambini quindi questa logica di iper specializzazione anche di chiusura è una logica che sta fuori dal mondo reale non è più sufficiente ma lo sappiamo credo se lavorate in comunità vi arriva un bambino e il nostro compito è quello anche di tutelarlo di proteggerlo di farlo crescere non possiamo pensare che sia solo quel bambino lì anche se magari come il bambino di cui diceva prima Gabriele non vede il papà magari non lo vede fisicamente però il papà continua ad averlo dentro quindi è un po' come se fosse tra virgolette un fantasma con cui però noi operatori dobbiamo continuare a fare i conti come se ci fosse anche lui in comunità quindi non solo il bambino ma tutta la sua rete familiare allora di sicuro i servizi molto specialistici che lavorano da soli non hanno senso di esistere perché non c'è solo il problema della dipendenza della patologia della difficoltà sociale economica ormai i problemi sono sempre più interdipendenti tra di loro quindi è anche credo un segno di realismo oltre che di umiltà pensare che dobbiamo imparare a lavorare anche con servizi diversi dai nostri sicuramente le risorse economiche sono venute in parte meno questo è un dato di fatto credo un dato oggettivo però credo che siano venute meno anche le risorse culturali quindi è un po' come se ci fosse una paralisi del pensiero come se nel momento di difficoltà concreta economica ci fossimo un po' fermati a pensare in una posizione magari anche legittima però anche un po' depressiva allora credo che sia necessario imparare anche a vedere risorse diverse e questo c'è possibile farlo nel momento in cui scambiamo le nostre esperienze con altri operatori e non operatori magari chi come un vigile ci dà uno sguardo dall'esterno magari ci è utile tanto quanto il collega che vede tutti i giorni il bambino insieme a noi in comunità e credo che questo sia un altro passaggio necessario da fare oltre che utile e forse anche stimolante perché puoi dialogare anche con chi ha visioni diverse dalle nostre e anche divertente anche se un po' faticoso ecco forse in questo senso dobbiamo un po' imparare a uscire da quella che io chiamo la mistica insondabile del sociale cioè come se il mondo del sociale del disagio della fatica lo capissimo solo noi operatori e quindi è inutile spiegare agli altri perché è faticoso però secondo me è utile è indispensabile spiegare agli altri che il nostro lavoro è un lavoro utile che serve che serve non solo per quel bambino ma che serve anche a far star meglio la sua famiglia e anche a garantire una giustizia sociale che quindi poi tutti i cittadini avranno in ritorno qualcosa di più di positivo sicuramente le culture di tipo privatistico localistico che credo emergano normalmente nei periodi di crisi non aiutano quindi davvero credo sia importante un po' rilanciare e uscire allo scoperto cioè non chiuderci nella nostra nicchia autoreferenziale anche a lamentarci ma basta andare oltre provare ad aprirci e a vedere anche altrove risorse diverse sicuramente un altro elemento che è importante considerare è il peggioramento delle condizioni di lavoro di molti operatori in parte dell'ente pubblico ma penso soprattutto agli operatori del privato sociale le cui condizioni lavorative spesso sono segnate dalla precarietà allora certo che è più difficile quando io per primo sono in una situazione di precarietà anzi c'è una ricerca molto interessante che sta conducendo Caritas in cui si dice che alcuni operatori sociali si avvicinano sempre di più alla soglia della povertà e quindi si avvicinano sempre di più a quella che è tra virgolette l'utenza che noi un tempo sostenevamo allora anche qua senza deprimerci troppo però dire beh scatta qualcosa tra di noi un po' di solidarietà oppure al contrario facciamo la guerra tra i poveri e ognuno si rinchiude nel proprio mondo quindi questo è un altro motivo in più non solo per lamentarci ma anche per dire beh proviamo a costruire anche come professionisti parlo degli educatori ma anche degli assistenti sociali anche degli infermieri che sono spesso segnati da condizioni di precariato sapete credo che cosa vuol dire innanzitutto che non ho garanzie per il mio futuro ma anche che per il presente ho magari meno possibilità dei colleghi di formarmi non posso fare la supervisione ho meno possibilità di aggiornarmi questi sono elementi importanti perché segnano poi anche la qualità dell'offerta dei servizi ai bambini e alle loro famiglie collegati anche alla precarietà del lavoro degli operatori sociali ci sta credo la difficoltà che abbiamo avuto nel corso degli anni a farci conoscere e riconoscere credo che sia una responsabilità in parte nostra nel senso che forse abbiamo dato per scontato chi lavorava non solo in comunità ma in generale nei servizi che fosse sufficiente esistere per essere conosciuti riconosciuti e legittimati dagli altri abbiamo visto che non è così perché molti servizi sono stati tagliati forse anche giustamente può darsi però se noi diciamo forse questo servizio era un servizio fondamentale per la cittadinanza però ci sta un po' anche della nostra responsabilità se non siamo stati capaci di raccontarlo come diceva prima Fabrizio Serra quindi di giustificare anche il nostro lavoro di renderlo visibile di raccontarlo quindi di costruire anche una narrazione che sia in grado di tenere insieme i dati quantitativi numerici ma anche la storia delle persone e credo che questa sia una difficoltà nostra in generale che siamo sempre spesso sbilanciati sulla dimensione qualitativa biografica sulla narrazione e facciamo invece fatica a dimostrare a far vedere ad altri anche la dimensione quantitativa dei numeri che magari non sono numeri enormi però i numeri quando ci riferiamo a bambini vuol dire la possibilità per questi bambini di avere un futuro degno di essere vissuto quindi magari sono pochi però dobbiamo essere capaci di raccontarlo bene anche il lavoro che abbiamo fatto e poi sicuramente si avverte un sentimento di assedio da parte degli operatori è una parola un po' forte però ogni tanto facendo formazione e supervisione con gli educatori soprattutto ho sentito spesso il racconto delle difficoltà di chi è tra virgolette in prima linea qualcuno mi ha detto in trincea allora ho ripreso questa frase che mi sembrava molto significativa di Franco Olivetti Manuchian che dice ci si sente assediati quando ci si muove dentro una rappresentazione di sé e del proprio lavoro che fa credere in pratica che ce la possiamo cavare da soli allora credo che sia una rappresentazione che noi stessi abbiamo un po' legittimato ma dalla quale dobbiamo uscire e quindi dobbiamo imparare anche a uscire dalla convinzione davvero che possiamo lavorare da soli quindi senza raccontare senza condividere con altri il nostro lavoro che vuol dire i nostri successi e anche i nostri insuccessi perché poi dai fallimenti si impara gli ostacoli del lavorare con altri li ricordo molto brevemente sono le grammatiche che chiudono quindi gli atteggiamenti autoreferenziali quindi quelli molto specialistici forse diciamo così la cultura sanitaria è quella che in questo caso ci risulta un po' più evidente abbiamo sempre medici molto più specializzati in un singolo tipo di patologia di un singolo organo e sempre meno invece medici in senso lato diciamo così di base nel senso che guardano alla persona forse la cultura sanitaria che in realtà si sta un po' emancipando da questo tipo di visione è quella più segnata dallo specialismo oppure la grammatica della beneficenza anche quindi del dire quello che non può fare l'intervento statale lo può fare il benefattore quindi un privato e ovviamente sappiamo anche questo è un tipo di intervento che può essere molto critico un'altra attitudine che può essere rischiosa e che ho aggiunto è quella la casa all'inghitudine degli operatori che non è la domiciliarità che ci propone la bottega del possibile anzi la casa all'inghitudine è un po' quell'atteggiamento che abbiamo credo soprattutto chi lavora in comunità residenziale ma non solo del dire mi chiudo un po' nel mio guscio proteggo tutelo i bambini ma in fondo proteggo e tutelo un po' anche me e quindi mi metto forse anche un po' meno in discussione mi apro di meno la valutazione al dialogo con gli altri cittadini con il territorio quali strategie le cito molto brevemente noi oggi vi raccontiamo un'esperienza che è quella di Casa Base di Avigliana che è anche una sperimentazione perché abbiamo provato ad allargare il nostro sguardo dalla comunità alloggio e quindi dall'intervento di tutela dei bambini al lavoro con le loro famiglie di origine all'intervento con il territorio quindi abbiamo provato a fare i tre passaggi successivi allora le strategie che poi vedremo in seguito insieme sicuramente fanno riferimento alla capacità di lavorare con il contesto quindi non solo tra di noi ma anche la capacità di dialogare con altri quindi costruire il capitale sociale diventare soggetti culturali quindi imparare anche a dialogare con professioni diverse costruire sicuramente fiducia che è un altro elemento critico e credo sia un altro elemento indispensabile se voglio imparare a lavorare con altri devo anche affidarmi ad altri dare fiducia anche ad altri vi lascio con una citazione per tornare di nuovo un po' all'apertura che è quella di una scrittrice anche qui che era un dati eroi che è una scrittrice anche molto impegnata nella tutela dei diritti del proprio paese dell'India in modo particolare dei più deboli mi sembrava interessante perché anche qua un po' uno sguardo che fa riferimento a quella che anche con orgoglio la storia dei servizi non è che dobbiamo buttare via tutto o annullare tutto il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni in comunità con le comunità residenziali quindi non dobbiamo dimenticare non dobbiamo perdere un pezzo della nostra identità per sopravvivere però è anche vero che dobbiamo imparare a ampliare il nostro sguardo e a vedere anche gli altri quindi guardare anche altrove grazie buongiorno a integrazione delle cose che ci ha appena detto Norma vorrei provare a fare alcune riflessioni intorno a un tema che per alcuni aspetti è vecchissimo cioè non scopriamo credo nessuno in sala l'acqua calda nel ragionare sull'opportunità di considerare il lavoro degli educatori di una comunità come ciò che esclusivamente determina i cambiamenti o i risultati positivi nel processo di supporto tutela cura promozione crescita del bambino inserito in comunità però credo che sia giusto ogni tanto provare a fermarsi anche ad aggiungere sedimenti di esperienze di riflessioni provare magari a farsi qualche interrogativo nuovo e comunque provare insieme soggetti via via nuovi ci sono sempre processi di turnover processi di cambiamento dei modelli abbiamo sentito anche nella relazione prima di come si arrivi progressivamente a determinare la configurazione di modellistiche di strutture di organizzazioni che via via cambiano e quindi è giusto anche porsi tanti interrogativi anche se a volte abbiamo una sensazione che gli interrogativi siano vecchi perché gli operatori da soli non possono farcela ma io ribalterei la domanda perché una famiglia da sola non è sufficiente a crescere i propri figli perché il punto non è la comunità in quanto tale credo che la questione riguardi il processo della crescita di un bambino un bambino non cresce solo nella sua famiglia non cresce solo grazie alla sua famiglia ma cresce per un insieme e questo sì credo che sia corretto dovercelo dire sempre più intricato sempre più complicato sempre più complesso di fattori e di soggetti che intervengono e questo riguarda solo le famiglie o riguarda anche una comunità io penso che riguardi anche la comunità la comunità proprio perché nel suo dna ha l'idea di recuperare aspetti della vita del clima familiare da riproporre in un contesto più tutelante più organizzato penso che di fatto si porti dietro anche questo tema anche a mio avviso in una comunità che tratta e che si occupa di bambini maltrattati e di bambini con gravi traumi non è solo lo staff della comunità che determina e contribuisce alla crescita di questo bambino e anche in questa situazione l'insieme intricato complesso complicato di soggetti che comunque intervengono con questo bambino però ecco questa è già la premessa vorrei partire da quattro esempi di quattro vicende che mi sono capitate davanti agli occhi in dialogo con operatori o comunque familiari perché vorrei proporre queste quattro piccole fotografie di situazioni per ragionare sulle cose che vorrei dire dopo la prima esperienza riguarda Giulia mia nipote adesso ha 16 anni quando ne aveva 6 va in prima elementare e in prima elementare dopo qualche mese le maestre convocano mia sorella per chiedere se è vero come dice Giulia che i suoi genitori si stanno separando che Giulia piange tutti i giorni a scuola e che ha dei pianti ingestibili incontrollabili e non sanno come contenerla mia sorella dice che non è assolutamente vero che si stanno separando e insomma concordano di provare nei giorni successivi a capire cosa è accaduto ci vuole un mese perché insomma con i bambini non è così semplice decidi di fare una cosa e la fai ci vuole un mese in occasione di un bagnetto in casa mia sorella e la bambina e insomma a un certo punto il dialogo si sposta su questi temi e Giulia dice con grande semplicità questo fatto che la sua migliore amica Giulia anche lei di 6 anni le ha detto che se i propri genitori non dormono insieme per 5 notti di seguito nello stesso letto vuol dire che si sono separati poiché in quel periodo mio cognato lavorava a Milano e partiva il lunedì mattina e tornava il sabato mia nipote ha fatto così 1, 2, 3, 4, 5 quindi se Giulia la mia migliore amica ha detto che dopo 5 notti che non vedi tuo padre e tua madre nello stesso letto sono separati tu hai i genitori separati lei ha fatto questo ragionamento e ha comunicato a tutta la classe che i suoi genitori si erano separati tutta la classe cioè tutti i bambini hanno detto oh povera Giulia anche a te perché anche a noi eccetera lei si è rinforzata del commento di rinforzo di tutta la classe e praticamente era straconvinta di avere i genitori separati solo che a quel punto non poteva più tirarsi indietro e ha cominciato a esternare con i pianti incontrollabili questo suo sentimento di ecco questo verrebbe da chiedersi alla migliore amica di Giulia farsi i fatti propri ogni tanto non fa male ma la domanda è a sei anni uno come la impara questa cosa qua cioè chi è che ha detto che bisogna contare cinque notti per vedere se i tuoi genitori sono sposati o no se dormono nello stesso letto è una cosa curiosa molto interessante il tema del sapere che si scambia nelle diverse età io ho fatto un esempio di sei anni ma potremmo tranquillamente credo in sala condividere esempi anche per età più piccole secondo esempio un'esperienza fuori Torino ho a che fare in un progetto di prevenzione con un responsabile di un'associazione sportiva calcio che mi dice che cioè con molta molto insomma coinvolto emotivamente si è trovato in una situazione in cui ha dovuto decidere a cosa rinunciare se rinunciare a un bambino o rinunciare ad altri 15 io non riuscivo a capire cos'era e lui mi ha detto che avevano accolto da poco un bambino che metteva in atto comportamenti inadeguati rubava dalle borse degli altri bambini dell'età prima media rubava dalle borse degli altri era sempre trasgressivo quando uno stava per tirare il calcio di punizione lui arrivava spostava il pallone piantava casino non rispettava le regole eccetera fino a un punto in cui tutti i genitori degli altri 14 bambini sono andati da lui responsabili della squadra hanno detto o lo mandi fuori o noi portiamo tutti i nostri figli e li mettiamo nell'altra squadra del paese lui ha dovuto decidere e ha deciso di mandare via il bambino implicato dicendogli non sei adatto per la nostra squadra di calcio trovatene un'altra terzo episodio terzo episodio in realtà è una somma di episodi perché ho avuto a che fare in questi ultimi anni con anche esperienze di contatto e supporto agli animatori di oratori e uno dei temi più forti che è venuto fuori di questo lavoro è il tema di come negli oratori si gestisce la violenza tra ragazzi cioè i comportamenti aggressivi uno di questi operatori sottolinea come loro si trovano in grande difficoltà ad un certo punto ci chiediamo ma quali sono le strategie che mettete in atto quando vi trovate di fronte a una situazione di aggressività e incominciamo a confrontarci a ragionare e alla fine ne è venuta una sola l'espulsione del ragazzo aggressivo cioè di chi porta il problema e va bene ho detto accettiamo che questa sia la soluzione giusta e per gli altri che sono rimasti fate qualcosa zero assoluto cioè l'espulsione dell'aggressivo implica l'esaurimento dell'intervento educativo cioè nessuno che prenda in considerazione le vittime nel loro stato emotivo nel che cosa vuol dire che vedi buttare fuori un tuo coetaneo e che comunque ripropone anche a questi il fatto che loro stessi un domani potrebbero trovarsi a dover agire o essere costretti o essere spinti ad agire un comportamento aggressivo zero totale ultimo episodio sempre fuori Torino un pediatra che intervisto per una ricerca mi dice che di recente in quel paese due tre mamme si sono rivolte a lui chiedendo psicofarmaci per i bambini in età otto anni sette otto anni e spiega che questa richiesta è dovuta al fatto che i bambini sono molto stressati perché hanno una vita con un'agenda impegnatissima al che questo pediatra dice io ho provato a convincerli che forse la soluzione se di soluzione si può trattare è di non stressarli troppo e la risposta di queste mamme è di beh no in realtà è meglio educarli da piccoli a quello che sarà la vita da grandi compreso l'uso degli psicofarmaci perché se uno tutti i giorni si abitua allo stress poi ha bisogno di qualcosa che compensi questo stress e lui dice vabbè io in coscienza e scienza non condivido quindi non le prescrivo i farmaci la risposta è stata va bene vado ad un pediatra privato e me lo faccio prescrivere quattro esempi che ci dicono di come i contesti sociali in cui viviamo propongono costantemente a ciascuno delle nostre famiglie delle vostre famiglie situazioni che non sono controllabili che non sono sotto controllo che a volte noi non conosciamo che a volte noi non veniamo neanche mai a conoscere o a volte veniamo solo a conoscere quando hanno raggiunto la classica situazione della goccia che fa traboccare il vaso si cresce come dicevo prima grazie certamente ai genitori ma si cresce grazie ai parenti agli amici ai vicini di casa ai nonni agli insegnanti gli animatori gli allenatori i docenti di danza e di informatica e aggiungete voi tutto quello che volete si cresce anche grazie ai molti stimoli che la società nella sua globalità offre ai bambini attraverso la tv pensiamo solamente ai cartoni animati pensiamo anche agli stimoli che i genitori ricevono credo che sia sotto l'occhio di tutti il potere e l'enorme rilevanza che ha acquisito la trasmissione sulle tate o se ci spostiamo sull'adolescenza la trasmissione istruzioni per l'uso per gestire un adolescente in casa che poi producono libri che poi producono anche corsi di formazione perché la linea è io più ti addestro e più tu dopo sei capace a gestire ma si cresce anche alle relazioni via via sempre più ricche sempre più complesse tra i coetanei uno degli esempi che a me induce a pensare questo l'ho fatto prima e questo avviene in scuola avviene nel nido avviene nella materna avviene nel tempo libero nel giardino avviene sotto strada in cortile non avviene dentro le quattro mura della casa tutti questi fattori agiscono lo sappiamo a volte in modo coerente per fortuna per casualità per incidenti non si sa comunque c'è una coerenza una convergenza a volte avvengono in modo non coerente non convergente a volte addirittura avvengono in modo discorde se non conflittuale tra di loro cioè proposte modelli di riferimento che divergono completamente l'uno dall'altro e la famiglia si trova a dover fare i conti con non solo una confusione rispetto al proprio modello educativo perché a volte all'interno della famiglia tra padre e madre sempre che ci siano non è detto che spontaneamente insomma si arrivi a una convergenza dei modelli educativi ma il problema è anche condividere qualcosa con tutto il resto che sta fuori considerare la vita di una comunità residenziale pone l'esigenza di riflettere su un interrogativo che secondo me per la comunità è essenziale il processo di crescita di un bambino accolto in comunità avviene solo grazie al lavoro degli educatori ho risposto prima no ma vorrei provare a ragionare su questo cioè dentro questa domanda non c'è il fatto di riproporre il modello istituzionale in cui dal mattino alla sera i bambini collocati in istituto stavano tutti all'interno delle quattro mure lungi da me un pensiero di questo tipo ma l'idea è che ha una quota di presidio e uso il termine presidio in positivo cioè di capacità degli operatori di gestire di controllare di integrare il proprio lavoro con quello di altri che viene fatto all'interno del sistema dei servizi e qui dentro inserisco tutte le relazioni che gli educatori della comunità hanno con i servizi di territorio servizio sociale servizio di psicologia servizio di neuropsichiatria e quant'altro stiamo parlando però sempre dello stesso minestrone cioè di operatori professionalmente preparati e pagati per fare questo e chiamati a farlo nel miglior modo possibile il problema è se si riesce a immaginare l'evoluzione in una direzione diversa a mio avviso che implichi anche qualcosa che va fuori dal minestrone dei servizi e del sistema dei servizi e quindi se le parole coinvolgimento rete integrazione per il minestrone dei servizi sono ormai parole guida che riempiono la nostra bocca i nostri documenti le linee guida regionali delle regioni che le fanno e così via quando i nostri bambini collocati in comunità per esigenze di divertimento tempo libero noi li collochiamo in un'associazione sportiva ad esempio di calcio siamo garantiti di ritrovarci di fronte a un responsabile un allenatore che non sia quello che ho descritto prima no siamo garantiti dall'inserimento in un oratorio assolutamente no siamo garantiti dal fatto che nella classe di quel bambino avvengano delle comunicazioni tra pari del tipo di quelle che ho detto prima assolutamente no che i genitori dei compagni di classe o dei compagni di scout o dei compagni di sport non agiscono dei processi repulsivi espulsivi assolutamente no e allora questo ci porta a mio avviso a ragionare sul che fare un po' partendo dalle esperienze dal contatto con gli operatori mi sembra che noi in questo ambito siamo di fronte ad almeno tre strategie la prima è quella di cercare di ampliare la gamma del presidio cioè quella qualità e quantità di presidio che io esercito nelle relazioni con il sistema di servizi con gli altri operatori cerco come operatori di comunità di esercitarla anche nei confronti dell'associazione sportiva dell'oratorio eccetera 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 cioè cerco il mio intendimento di andare in questa direzione chi si muove così a mio avviso fa prevalere il sentimento del rischio del pericolo come dominante cioè poiché voglio evitare al mio bambino collocato in comunità ulteriori danni derivanti da altri contatti cerco ho finito il tempo cerco di agire un presidio maggiore una seconda strategia è l'indifferenza poiché sono consapevole che ho poteri limitati non sono un superman lascio che la vita faccia il suo corso e che quindi il mio bambino in comunità incontri chi incontrerà perché tanto li avrebbe incontrati comunque se fosse stato in famiglia quei compagni di classe quei compagni di sport li avrebbe forse potenzialmente incontrati c'è una terza che è quella su cui a me piacerebbe riflettere anche in termini evolutivi che è l'idea di un'accettazione attiva del rischio cioè l'idea che sia possibile accettare questo rischio i rischi connessi all'intervento non voluto un intervento comunque non intenzionale o non professionale di tutta una serie di soggetti rispetto ai quali qualcosa si può fare accettando però il rischio di non essere in grado di gestire tutto come? Beh in parte alcune cose sono state dette però secondo me alcune strategie è possibile pensare operative è possibile di svilupparle beh una è il lavoro di supporto sulla genitorialità cioè non sono in discussione solamente i genitori le famiglie dei bambini che collochiamo in comunità oggi in discussione l'intero tema della genitorialità cosa significa essere genitori non è possibile io insomma partendo dall'esperienza di formazione con genitori che mi ritrovo un genitore che ha un figlio di 4 anni che dice che il suo figlio è incontrollabile e ingestibile soprattutto che non riesce a fargli lavare i denti la sera non esiste io credo che ci siano problemi di fondo che oggi forse i genitori affrontano come dire con meno risorse magari personali ma che comunque si trovano ad affrontare secondo certamente un ruolo di supporto cioè un processo di supporto a ruolo adulto e su questo abbiamo ancora molta strada a fare perché dentro questo ruolo adulto io inserisco dai vigili alla polizia alle forze dell'ordine sensolato agli operatori dello sport agli operatori della cultura all'allenatrice o maestra di danza eccetera eccetera cioè tutte quelle funzioni impersonate da adulti che hanno a che fare con bambini con ragazzi e che volenti o nolenti producono stimoli educativi che intervengono e integrano quelli che il bambino che ha in comunità riceve poi c'è un terzo elemento che è quello del supporto tra pari ovviamente non è che dobbiamo esagerare però credo che le esperienze che abbiamo fatto in Italia di peer education ci dicano che è possibile sviluppare esperienze interessanti anche più mirate e quindi perché no pensare che dove io colloco in una scuola un bambino inserito in una comunità in quella scuola in accordo con la scuola possa sviluppare un progetto di peer education perché non farlo perché non farlo cosa costa non fare questo cosa costa non farlo tenuto conto che in genere sono cose che hanno costi riduttissimi dal punto di vista gestionale e poi infine il tema della comunità nel suo insieme i bambini incontrano negozianti incontrano giornalai incontrano il lattaio incontrano cioè figure adulte che comunque intervengono in modi diversificati ecco l'invito e chiudo quindi è una riflessione aperta intorno alla necessità a mio avviso di fare in modo che la relazione dentro fuori sia una relazione in cui il fuori non sia un nemico da un lato ma non sia neanche un soggetto da ignorare il fuori deve essere un soggetto con cui cercare di costruire qualcosa in che direzione io qui ho detto dico alcune ipotesi intanto quella della non separazione il fuori mi interessa tanto quanto il dentro della non episodicità quindi della continuità delle relazioni e magari anche degli interventi della non eccessiva informalità è bene che alcune cose rimangano informali ma è bene che alcune cose dell'informale passino al formale ha delle relazioni io immagino di patto educativo territoriale che possono trovare anche nei luoghi come le comunità in esperienze come le comunità un perno intorno al quale costruire questo patto educativo di comunità dalla casualità alla non casualità e infine dall'esplicito all'intenzionale certo noi abbiamo le comunità hanno rapporti con un sacco di persone fuori dalla comunità però a volte questi sono costruiti un po' passaparola un po' col modello di funzionamento della neve che scende e poi diventa una valanga però forse passare da un sistema che funziona in questo modo un sistema che anche costruisce e allora il problema è di porre tutti questi temi non solo agli educatori della comunità ma a quel minestrone di cui parlavo prima che coinvolge educatori di comunità servizi sociali servizi di psicologia servizi di neuropsichiatria come passare da un processo principalmente di protezione e cura un processo che sia contemporaneamente protezione e cura e prevenzione grazie allora grazie a Norma Perotto e a Roberto Maurizio quindi la risposta è che gli operatori non possono farci da solo perché non sono superman questo mi sembra di aver capito dal commento insomma allora introduco Enrico Quarello che in qualche modo ci riporta un po' più rispetto allo specifico del nostro progetto insomma lui è rappresentativo un po' delle due identità che hanno caratterizzato il nostro lavoro è il primo educatore di Chieri ed è attualmente uno dei terapeuti del centro a queste due anime che in qualche modo ci rappresentano dal punto di vista dell'idea portante del lavoro che abbiamo realizzato in questi anni e quindi insomma Enrico Quarello adesso ci racconterà un po' quella che è un po' il lavoro che si è evoluto negli anni rispetto a quello che facciamo puntando particolarmente l'attenzione a quello che è poi il lavoro della comunità che è all'interno di questo progetto ok sì quando in aula c'è un po' più di gente che nella mia famiglia natale tendo a leggere quindi allora era un giorno buio e tempestoso il 2 novembre del 1994 festa dei morti il tempo della famosa alluvione in Piemonte e allora apriva la nostra prima comunità a Chieri per arrivarci dovetti guadare con la macchina due torrenti la mia collega cercava di riattivare l'impianto elettrico e svuotare l'entrata dall'acqua prima che arrivasse il nostro primo inserimento tra l'altro è qua presente l'assistente sociale del primo inserimento che può testimoniare che l'acqua era stata asciugata il tutto iniziava sotto i migliori auspici eppure la metafora che possiamo rappresentare eccola nella vignetta ci può aiutare a introdurre alcuni dei temi che andremo a trattare ma prima faccio una piccola premessa il nostro progetto è composto da tre anime un'equip psicologica che lavora sia col bambino che coi genitori due equipe educative che nelle comunità colgono il minore e gestiscono gli incontri protetti e monitorati e il lavoro di attivazione della rete intorno alla comunità realizzato da Paideia ecco la vignetta realizzata questa notte alle 4 quindi non è perfetta che rappresenta un po' il funzionamento del progetto quella bionda che fa il vigile la nostra assistente sociale che dirige un po' il traffico da un punto di vista del lavoro sul singolo caso l'equipe educativa e l'equipe clinica lavorano in modo strettamente integrato e non può esistere l'una senza l'altra dovevamo però fare una scelta sui contenuti da portare in questa relazione abbiamo deciso di concentrarci prevalentemente sul ruolo della comunità e dell'equipe educativa lasciando ad altre occasioni e compleanni approfondimenti sulle altre anime perché? perché come dice Amaniti lo scrittore e non lo psichiatra il figlio il momento è delicato proprio in questo momento delicato infatti sia per la riduzione dei fondi di disposizione sia per i cambiamenti a livello culturale sembra esserci sempre meno spazio per le strutture comunitarie nel lavoro con i minori maltrattati proverò invece nella relazione a rappresentare le risorse che le comunità non solo la nostra possono mettere in campo e le potenzialità che le equipi educativi e professionali hanno nel proprio DNA quando abbiamo iniziato subito dopo l'alluvione forse un po' ingenuamente pensavamo alla comunità come spazio e tempo della protezione solo se il minore si sentirà protetto sia dal punto di vista fisico sia sul piano dei significati potrà iniziare come dicevamo allora a rifiorire nella vignetta l'equip fa muro intorno al bambino e allo stesso tempo lo decolpevolizza per tutto quello che è successo non è colpa tua e noi ti proteggeremo chiaro e semplice la prima potenzialità dunque è la capacità di proteggere bei tempi il male là fuori di noi e il bambino dentro nella realtà abbiamo scoperto se qualcuno poi mi porta un bicchiere d'acqua che ho già finito la saliva allora nella realtà abbiamo scoperto fin da subito che in molte situazioni questo rifiorire tarda a venire e i bambini ancora per lungo tempo hanno delle importanti manifestazioni sintomatiche ed ecco la seconda potenzialità gestire i sintomi senza farsi prendere dall'angoscia per essere sprofondati nel peggiore degli incubi tale passaggio è realizzabile contando su conoscenze specifiche del funzionamento prostoromatico sulla possibilità di rassicurarsi a vicenda che la comunità non si è trasformata nell'astronave di Alien e che quello che il bambino manifesta per quanto sconvolgente ha un senso e un significato ecco la vignetta il bambino sull'albero fa chicchiere chi e gli educatori calmano i presenti sconcertati questa fa un po' ridere ma mi sembra importante fare l'elenco anche se un po' crudo di quello che i bambini possono agire nella fase sintomatica masturbazione compulsiva tentativo di avere rapporti sessuali con educatori bambini animali esplosioni di rabbia incontrollata gesti autoalesivi tentativi anticonservativi depressione vomito inusresi incopresi furti e voilà se si lavora bene e non solo la comunità i sintomi più importanti vanno a ridimensionarsi ma si presentano nuovi problemi i bambini maltrattati infatti si identificano per proteggersi dall'angoscia di essere disintegrati con l'aggressore e si costruiscono un'immagine di sé feroce e degradata allo stesso tempo noi riusciamo a vederli come vittime se siamo bravi operatori ma loro come si vedono e nello stesso tempo non si fidano per nulla degli adulti soprattutto di quelli che si avvicinano per aiutarli ne hanno una grande paura potremmo dire il terrore noi ci vediamo come operatori empatici benintenzionati ma loro come ci vedono ecco come gli occhiali deformanti del bambino trasformano quello che noi pensiamo come un incontro di aiuto l'incontro diventa così uno scontro deflagrante e reggere l'impatto è tutt'altro che semplice ma se l'equip aiutandosi reciprocamente suddividendosi il peso riuscirà a non spaventarsi e a non spaventare cogliendo la paura dietro la furia potrà piano piano modificare le lenti deformanti del bambino il piccolo terminator diventerà così quasi simpatico e l'orco educatore una specie di shrek forse sempre un po' stronzo non so se si può dire ma in fondo non troppo pericoloso nella vignetta l'educatore dice ecco il mio mostrino preferito e il bambino risponde senti chi parla la terza potenzialità questa è lunga e dunque incidere attraverso esperienze relazionali reali sulle immagini interne connesse alla relazione d'aiuto ovvero in termini scientifici forzare i modelli operativi interni ma come se non bastasse fin da subito ci siamo accorti che bisognava aggiungerne un pezzo molto importante spesso infatti i genitori non sono come quello terribile di prima ma al contrario delle anime perse nel mondo persone senza né arte né parte disastrose come genitori perché tutta la loro vita è stata un disastro traumatiche perché traumatizzate e un bambino maltrattato tanto ha sopportato e tanto può ancora sopportare ma non può tollerare che gli educatori che dichiarano di volerlo aiutare si permettano di attaccare o non considerare il suo disastroso genitore ed ecco la quarta potenzialità di un'equipe educativa farsi carico anche del genitore accoglierlo come persona sofferente in difficoltà e soprattutto uscire dalla dimensione del giudizio non sei un genitore come si deve o del confronto sono più bravo io tale passaggio è possibile perché gli educatori non sono genitori almeno non in comunità e si collocano in una posizione terza prendono il posto del genitore nella misura in cui questi non sono in grado di svolgere il proprio ruolo si diceva una volta nella posizione di supplente ma allo stesso tempo tifano perché il genitore ce la possa fare e mettono in campo le proprie risorse in questa direzione nella vignetta gli educatori si affiancano al tentativo di recupero del genitore remando a favore e non contro dove è l'acqua? gli anni passano bambini e genitori passano alcuni fenomeni inizialmente inspiegabili lentamente si iniziano a comprendere come per esempio come mai alcuni bambini hanno una prima fase drammatica un po' alla volta migliorano e poi proprio quando le cose vanno bene quando finalmente si crea un legame con l'educatore di riferimento impazziscono e iniziano ad attaccare e distruggere tutto di quello che di buono hanno costruito usiamo una metafora ma cosa succede se un bambino affamato si mangia una torta intera fa indigestione e poi si arrabbia con chi gliel'ha data allo stesso modo per un bambino affamato di affetto il troppo affetto tutto in una volta rischia di fare male di aprire ferite buchi neri incolmabili angosce profonde di perdere quello che si trova ed ecco la quinta potenzialità dell'equipe educativa calibrare la vicinanza affettiva essere in grado di rapportarsi col bambino non come viene istintivamente da fare ma in considerazione dei suoi bisogni a volte ad alcuni educatori verrebbe da lanciarsi di aprire le braccia di dare di più ma può non essere il momento ecco la vignetta ecco la vignetta con l'educatrice che dà una singola fetta di torta il disegnatore qua è stato buono perché in comunità ci sono solo quelle confezionate di torta il bambino non è per nulla contento fammi da mamma fuori di metafora ma l'educatrice tiene in questo momento devi accontarti di me che mamma non sono il bambino rimane imbronciato ma non gli viene il mal di pancia a volte se legge un articolo o un libro che ti illumina ti fa vedere le cose da una prospettiva nuova e soprattutto ti chiedi ma perché non l'ho scritta io quella cosa ti fa vedere le cose in prospettiva nuova ma come abbiamo fatto a non arrivarci prima per esempio che il mondo emotivo del bambino maltrattato e del genitore entrambi traumatizzati sono sostanzialmente simili è un mondo abitato da tre figure esagerate assolute scaturite fuori dalle tragedie greche ottilizzando il concetto dai fumetti e dai film dei supereroi ve le presento la vittima il persecutore il salvatore il bambino maltrattato e maltrattante si spostano senza fine e spesso alla velocità della luce da una posizione all'altra è un mondo dai toni forti di contrapposizioni di bianco e di nero di tutto e di niente di salvezza e dannazione di azione più veloce del pensiero perché questione di vita o di morte il cervello rettile il nostro primitivo navigatore satellitare nelle situazioni di pericolo prende il sopravvento il pensiero un lusso è un mondo dove tutti sono tragicamente soli sull'utilizzo di questo concetto che si chiama triangolo drammatico vorrei fare un esempio che permetterà anche di evidenziare qualcosa di più sulla doppia presa in carico bambino genitore la scuola chiama la comunità la mamma di Tiziana bambina di otto anni si è presentata e pretendeva di vedere la figlia era molto arrabbiata Tiziana se ne è accorta ed è scappata in palestra a nascondersi poi la mamma se ne è andata oggi tra mezz'ora c'è l'incontro protetto in comunità ecco dico due cose per chi non ha lavorato in comunità queste cose succedono in tre occasioni il 24 dicembre alle 18 e 30 in quella data in quell'ora l'ultima assistente sociale in servizio è stata avvistata nel 62 oppure oppure nel giorno della festa patronale del comune per cui lavora l'assistente sociale oppure il giorno in cui l'assistente sociale si sta sposando chiusa parentesi legge di marfi Tiziana arriva in comunità è agitatissima urla inizia a picchiare grida io vi ammazzo io mi ammazzo attenzione sta per saltare tutto in aria il triangolo drammatico sta per prendere il sopravvento e anche gli educatori rischino di esserne contagiati potrebbero identificarsi con la vittima impotente incapace di fare alcunché aspettando che gli eventi accadono aspettandosi che l'assistente sociale possa fare qualcosa per salvarli vestita da sposa il 24 giugno oppure identificarsi col persecutore non facendo entrare la mamma in comunità perché ha fatto una cosa grave che sarà relazionata al tribunale oppure nel salvatore prendendo la bambina e portandola lontana per salvarla dalla sua mamma cattiva ma vediamo invece cosa può mettere in campo una buona equipe educativa che utilizza la sesta potenzialità la dedrammatizzazione gli educatori in turno riescono a parlare col proprio coordinatore che fortunatamente non si sposava quel giorno per farsi aiutare sul da farsi e poi si dividono i compiti un'educatrice va da Tiziana e collega la sua agitazione alla vista della mamma arrabbiata afferma che forse è preoccupata per quello che potrebbe succedere a sé e alla mamma la rassicura dicendole che quando arriverà le si parlerà si cercherà di capire cosa è successo e si preparerà l'incontro come al solito la bambina prima urla poi urla un po' meno poi accetta progressivamente la vicinanza e il contenimento dell'educatrice un'altra educatrice accoglie la signora che arriva in assetto di guerra aspettandosi di essere attaccata l'educatrice al contrario l'accoglie sufficientemente tranquilla e le chiede di parlare un attimo prima dell'incontro la mamma senza guardarle in faccia le dice che stufa di fare gli incontri alla presenza degli educatori che lei non ha mai ammazzato nessuno l'educatrice però coglie dietro la rabbia espressa dalla signora la preoccupazione che il suo percorso di genitore stia andando male e la paura di perdere per sempre la figlia questo pensiero lo tiene per sé ma assume un atteggiamento comprensivo rispetto alla difficile situazione che la donna sta vivendo un po' alla volta la signora si calma siamo già qui vanno insieme da Tiziana che aspetta tesa come una corda di violino e l'educatrice prende la parola informa la bambina che si sono parlati e sono pronti a fare l'incontro la mamma andrà prossimamente a parlare con l'assistente sociale per fare delle richieste rispetto al futuro durante l'incontro sarà la signora stessa a chiamare più volte l'educatrice per chiederle delle cose alla fine mamma e bambina si salutano bene e Tiziana appare sufficientemente tranquilla dunque dedrammatizzare riconoscendo ascoltando comprendendo i pensieri e le emozioni nostre degli altri perché non siamo in una situazione di vita o di morte e pensiero intelligenza emotiva non sono un lusso ma il nostro navigatore satellitare di ultima generazione la messa in atto nel tempo di tale processo permetterà di resistere all'attrazione del triangolo drammatico andando progressivamente a far emergere un nuovo triangolo emotivo che potremmo chiamare triangolo rassicurante qui ritroviamo i nostri personaggi ma un po' cambiati la vittima adesso è in grado di alzare la testa e chiedere aiuto il persecutore certo non è un bel vedersi ma proprio paura non fa anzi a guardarlo bene fa un po' pena il salvatore oh per carità fa quello che può sembra in pigiama come noi operatori ma è sempre meglio di niente insomma accanto al film degli Avengers dove succede di tutto ci sono i film polacchi dove non succede nulla di speciale diciamolo a noi operatori di trincea piacciono di più i film degli Avengers e quando lo scenario non è drammatico ci annoiamo a morte ci distraiamo e passiamo ad occuparci di un altro caso ma questa è un'altra storia e concludo la lista non concludo concludo con la lista delle potenzialità con una meta potenzialità che forse si colloca a un livello superiore la capacità di promuovere cambiamenti realistici di accontentarsi dei piccoli progressi del bambino dei piccoli progressi dei genitori dei percorsi fatti da operatori giudici anch'essi pieni di pecche magagne ed errori nella vignetta il bambino scalcagnato e il genitore anch'esso scalcagnato si tengono per mano e vanno non si sa dove forse solo nel parco della comunità forse a casa per il weekend forse a casa per sempre ma gli educatori sono in grado dalla loro posizione di pensare che qualcosa si sia costruito qualcuno potrebbe dire bella coppia quei due dovevate vederli prima gli educatori riescono a volare basso perché la comunità non è e non deve essere la loro famiglia in cui giustamente a volte dolorosamente si punta in alto ma un contesto di lavoro in cui si fa quello che si è in grado di fare il mio cognato fa l'ortopedico e opera le colonne vertebrali quando gli chiedo allora come è andata l'operazione se è andata bene mi dice camminerà al futuro ce n'è ancora di lavoro da fare ma lui è soddisfatto di quello che è riuscito a realizzare con le sue competenze e i ferri del mestiere dunque in sintesi quale funzione possono ancora svolgere le comunità nelle situazioni di maltrattamento e abuso ci sembra di poter affermare a partire dalla nostra esperienza che i bambini vittime di maltrattamento e abuso e i loro genitori sono stati gravemente danneggiati sul piano emotivo affettivo relazionale e sono portatori di importanti sintomi a livello comportamentale tali problematiche possono essere affrontate e curate in un contesto caratterizzato da forte istanza di contenimento con un'alta resistenza agli urti con una buona capacità di comprendere e tollerare comportamenti inusitati e modalità relazionali distorte e soprattutto da una moderata e calibrata attivazione sul piano affettivo come già evidenziato la presenza di un'elevata attivazione sul piano affettivo nella fase critica descritta non solo non è utile ma rischia di attivare circoli viziosi nefasti quando una persona ha un grave incidente a stradale non può essere aiutata con abbracci coccole vicinanza quando uno ha le rossa rotte ma necessita innanzitutto di andare al pronto soccorso e poi eventualmente in un reparto di terapia intensiva questa può essere la funzione della comunità pongo infine una domanda e mi rispondo da solo rimandando poi gli approfondimenti alla tavola rotonda ma con tutte queste potenzialità ma con tutte queste potenzialità con gli educatori in tutina che sembrano i fantastici quattro una comunità non può diventare anche dannosa e pericolosa la risposta è sì diventa sicuramente e pericolosa